Ciao a tutti e benvenuti. Oggi parliamo di Elisabetta Canalis, una delle donne più seguite e amate d'Italia, ma anche al centro di gossip recenti che stanno facendo il giro del web. Cosa sta succedendo nella vita privata della showgirl? Vediamo insieme le ultime novità. Dopo la sua separazione da Brian Perry, il famoso chirurgo americano, Elisabetta ha attirato l'attenzione dei media con nuovi possibili flirt. Si parla di un uomo misterioso con cui è stata avvistata in diverse occasioni. I due sono stati visti insieme in cene romantiche e passeggiate per le strade di Los Angeles. Ma la Canalis non ha mai confermato o smentito direttamente queste voci. Tutti si chiedono, è una nuova storia d'amore o semplicemente un'amicizia? La cosa certa è che Elisabetta, da quando è tornata single, sembra voler mantenere la sua vita privata il più riservata possibile. Tuttavia, gli indizi sui social e le recenti paparazzate fanno pensare che ci sia qualcosa di più. Oltre alla vita sentimentale, non dimentichiamo che la Canalis è anche molto attiva nel mondo del fitness. Il suo impegno nel mantenersi in forma e nel condividere il suo stile di vita sano con i follower continua a fare tendenza. Tra allenamenti intensivi e diete equilibrate, Elisabetta rimane un'ispirazione per molti. Ma ora la domanda è, la sua nuova vita da single l'ha portata verso un cambiamento più profondo? Insomma, la vita di Elisabetta Canalis non smette mai di far parlare. Amori nuovi, voci di flirt, la sua carriera internazionale, e il suo impegno nel mondo del fitness, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su di lei. Restate aggiornati per saperne di più, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo possibile nuovo amore. È reale o è solo una voce di passaggio?